finalmente è proprio il caso di dirlo già perché dopo tutto ciò che è successo negli ultimi nove mesi tornare a calpestare i parquet sarà emozionante e lo sarà soprattutto per la polisportiva bitonto dopo lo tsunami positivo di emozioni che sono piovute addosso la più bella e ripescaggio in serie a due un evento storico per la società e l'esordio è domani casalingo contro il rottaie alle 17 e 30 finalmente dopo sette otto mesi ritorniamo sul parquet quindi c'è un'emozione immensa poi ricominciamo il campionato con una nuova squadra una nuova famiglia quindi c'ho già la pelle educa per questo nuovo inizio siamo sempre un cantiere aperto perché comunque il mercato è sempre in evoluzione poi a dicembre si potrà sempre fare altre operazioni il criterio è stato quello di creare una famiglia per questo devo ringraziare il patron silvanentini sia per la fiducia che ha voluto che ha riposto nei miei confronti e soprattutto perché solo il suo obiettivo era quello di fare una squadra competitiva ma soprattutto una famiglia un bel gruppo e le ragazze di mister pannarale sono attrezzate per fare un ottimo campionato ci sarà lungo e difficile in cui l'obiettivo è uno soltanto l'obiettivo è salvezza tranquilla poi è normale che partita dopo partita vedremo dove potremo arrivare